è chi vince tra uomo e donna. Comunque io vi ringrazio, ci vediamo a Logoredo, b**** la polizia, b**** il carabiniere e b**** chi cazzo fa b**** il finanziere, b**** chi fa le veci dello Stato. Ora vi saluto, vi saluto e vi dico una cosa, il biglietto del treno non si paga. Tremitalia è una grande b****, perché comunque pagate uno Stato italiano che vi fotte solo. Ora vi ringrazio, vi dico solo una cosa, sempre e solo forza, forza! Grazie a tutti!